In Europa e nel mondo non è una rinascita globale del Covid, ma è il semplice passaggio del SARS-CoV-2 dalla fase pandemica a quella endemica. Il virus sta diventando sempre meno aggressivo. La variante Omicron ad oggi non ha provocato nessun decesso e produce soltanto una sintomatologia molto lieve. Se la politica seguisse la scienza, questo sarebbe il momento di rimuovere ogni restrizione, concentrandosi sulle cure dei sintomatici per consentire a tutti i cittadini di immunizzarsi naturalmente, mettendo fine all'era Covid. Invece oggi il sapere scientifico acquisito in oltre un secolo viene rinnegato e strumentalmente piegato a fini politici di controllo e dominio antidemocratico, oltre che di bieco profitto. I cittadini sono ostaggio di logiche perverse che calpestano i diritti umani e i principi fondanti dell'Unione Europea. Questo Parlamento senora ha ingrassato con soldi pubblici i bilanci delle multinazionali, seguendo le tesi di scienziati vicini ai governi. Là fuori c'è il popolo europeo che grida e chiede libertà e uguaglianza. Per quanto tempo ancora, colleghi, volete fingere di non sentire? Grazie.